Penso di essere entrato sia nella prima partita che anche nella seconda da titolare con una buona testa e comunque anche grazie ai compagni che mi hanno accolto subito e anche per la fiducia del mister. Mi sono integrato da subito con i compagni, quindi è stato anche abbastanza facile iniziare bene queste due partite. Poi ho tanto entusiasmo e voglia di far bene, quindi sono contento di queste due prestazioni. I gol arrivano, forse in queste tre gare non sono arrivati i gol ma siamo sempre andati molto vicini, quindi ci vuole solo tempo, allenamento su allenamento e basta. Non è un livello di testa o psicologico. I gol arrivano, quindi ora vediamo la prossima partita, cercheremo sicuramente di fare gol. Senti David, come un altro giocatore della Roma, Zaniolo, hai vissuto purtroppo una doppia rottura del crociato. Ti volevo chiedere come si esce da certi momenti così difficili nella carriera di un calciatore e quanto è stato importante per te revedere la Roma che in quel momento ti ha prolungato il contratto fino al 2024? È stato sicuramente un brutto periodo, non lo auguro a nessuno, ma purtroppo sono infortuni che in questo sport possono capitare. Però grazie all'aiuto dei miei familiari, dei miei amici, dei compagni di squadra sono sempre stato circondato da persone per bene, quindi mi hanno aiutato anche sotto a livello soprattutto di testa. Quindi adesso sto molto bene, quindi questo è l'importante. Poi per il prolungamento del contratto è stato da parte della Roma un gesto molto importante nei miei confronti, perché comunque ho visto il loro sostegno da parte mia e la loro fiducia. Quindi le ringrazio solamente e adesso continuo a lavorare. Il mister lo conosco, lui mi conosce, quindi diciamo venire qua mi ha dato anche, mi ha dato, diciamo, sapevo che c'era lui e mi ha cercato da molto tempo, quindi mi ha dato anche un motivo in più per venire qua. E quindi sono venuto qua per aiutare la squadra e anche perché penso di avere la pitucia del mister, quindi questo è diciamo l'importante. Grazie. 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 Grazie.